I migliori maestri artigiani italiani e stranieri, uniti alle eccellenze enogastronomiche della nostra terra, vanno in scena dal 13 al 16 dicembre alla Nuova Fiera di Roma. Un evento speciale che racchiude in sé sapori, tradizioni e caratteristiche uniche. Oltre 300 espositori, uniti da una passione comune, coordinata con il patrocinio di Roma Capitale e l'aiuto del sistema delle Camere di Commercio del Lazio e di Confartigianato, alla presenza di Mauro Mannocchi, Presidente della Fiera di Roma. Penso che io posso dire, anche nella mia veste, non soltanto di Presidente di Fiera di Roma, ma anche di Confartigianato di Imprese Roma, posso dire che in questo senso è la manifestazione preferita. Arti e Messieri, come lei ha detto, è al settimo anno, c'è stato un incremento di espositori, quest'anno siamo arrivati a 350 espositori, è sostenuta dalla Camera di Commercio di Roma, noi siamo davanti allo stand istituzionale della Camera, sostenuta da Union Camera Lazio e sostanzialmente questa fiera promuove il nostro territorio che è costituito per la gran parte da piccole e piccolissime imprese, il settore dell'artigianato artistico, dell'artigianato di alta qualità, dell'enogastronomia e qui c'è ovviamente una grande opportunità di scelta. La fiera è un contenitore di sviluppo, è una sorta di agenzia di sviluppo e lo vorrà essere sempre di più, ovviamente c'è l'opportunità per molte imprese di mettere in vista i loro prodotti e noi promuoviamo queste imprese, dobbiamo essere sempre di più un'agenzia di sviluppo, incrementeremo questo settore perché crediamo che sia nella competizione globale, come dicevo, un settore vincente o sicuramente uno dei brand più forti della nostra economia. All'evento ha partecipato anche Irene Pivetti, in qualità di presidente di OnlyItalia, una rete di piccole e medie imprese lanciate alla conquista del mercato cinese. OnlyItalia e Fiera Roma promuovono il progetto Vicini d'Impresa. L'occasione della Fiera Arti e Mestieri a Roma è una bella occasione per suggellare una collaborazione importante tra OnlyItalia, Fiera Roma e tutte le aziende che hanno scelto di partecipare non soltanto a questa iniziativa promozionale ma che hanno deciso di raccogliere questa nuova sfida per aprirsi ai nuovi mercati, mercati stranieri attraverso OnlyItalia che sarà il canale di vendita. Noi ci auguriamo di suggellare presto questa importante intenzione di collaborazione. Evento da record con Ottavia, la pizza senza glutine più grande al mondo. Il progetto Ottavia è la pizza più grande del mondo. Stiamo parlando di una pizza di 1256 metri quadri, 40 metri di diametro, 125,6 metri di circonferenza. Ottavia nasce due anni fa. È stato un progetto abbastanza importante, abbastanza impegnativo anche perché è un record sul record in quale senso. Noi abbiamo avuto 60 giorni di tempo per realizzare questo progetto perché diciamo lo start è stato appunto 60 giorni fa. È chiaro che Ottavia è la pizza più grande del mondo in questo momento e con i giudici che sono venuti, quindi Marco Frigatti e Lorenzo Veltri e Lucia Senigagliesi, hanno addirittura dato questo attestato entrando in il Guinness World Record, non solamente superando un Guinness vecchio ma anche aprendo una categoria nuova sul gluten free. Una nota importante verso la sostenibilità è garantita da Iurec, un'area dedicata all'arte, all'insegna della salvaguardia dell'ambiente e del riciclo. La mostra Articiclo è stata organizzata da Iurec e anche quest'anno racconta il riciclo grazie alle opere di artisti che lavorano con materiali di recupero come ad esempio il pet delle bottiglie piuttosto che dischi in vinile o ancora quadri realizzati con materiali derivati da scarti quotidiani o scarti industriali. Del CFP Teresa Girini sono nel settore auto, ci occupiamo di ragazzi, vengono molto appassionati nel nostro settore, settore auto e come vedete abbiamo realizzato anche questo modello di auto e hanno una grande risposta perché sono appassionati, scoprono un po' da noi che poi si deve studiare per prepararsi però in tre anni entrano nel mondo del lavoro. Fabio Campoli, chef del Circolo Buongustai, ha coinvolto il pubblico presente con sfiziose degustazioni e con un vero e proprio show cooking utilizzando prodotti rigorosamente made in Lazio. Fabio Campoli, presidente del Circolo Buongustai, che ci fa qui è il nostro luogo proprio di vocazione perché arti e mestieri, siamo in un padiglione dove ci sono 65-70 artigiani dell'enogastronomia laziale poi ci sono ancora altri padiglioni per un totale di 300 espositori, potremmo dire che qui è tutto un programma perché i momenti che seguono durante la giornata sono tanti, ad esempio mescolarti in cucina è una novità perché mettiamo assieme la cucina, il mezzo alle arti, abbiamo pittori, fotografi, musicisti che si seguono con noi nel palco, quindi la ricetta e la loro arte che si fonda assieme.